Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che ancora vedrà un'area di alta pressione posizionata sul Mediterraneo e sul nostro paese, quindi ancora condizioni meteorologiche più da fine estate che da autunno, però si preparano dei sistemi nuvolosi sull'Europa occidentale che poi verso venerdì si avvicineranno al nord Italia, ma vediamo per la giornata di mercoledì la previsione della nuvolosità con ben poco da segnalare, come vi dicevo sarà una giornata in bel tempo, qualche nuvolamento si fa vedere sul basso Tirene nel Salento ma senza grandi conseguenze, precipitazioni praticamente del tutto assenti, effettivamente senza nuvole come può piovere, quindi ripeto situazione tranquilla, ci attende un mercoledì soleggiato in tutta Italia, attenzione un po' di foschia, qualche banco di nebbia al primo mattino in pianura padana e nelle valli interne del centro, ma per il resto tanto sole, temperature localmente anche oltre i 25 gradi, per sapere cosa accadrà poi anche nelle giornate successive consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.